Durante la vita di una stella c'è una battaglia costante tra le forze opposte della sua energia e la gravità. Quando la sua energia termina, la stella collassa e poi esplode, generando tanta luminosità quanto quella di un miliardo di soli. Una volta che la stella esplode, essa spara nello spazio tutti gli elementi creati durante la sua vita e la sua morte. Nubi di idrogeno, collassando sempre di più sotto la forza di gravità, avviano il ciclo di vita di una nuova stella. Era proprio da una nebulosa come questa che 5 miliardi di anni fa si è formato il nostro Sole. Attorno ad esso si formò un sistema di pianeti. Tra questi c'era la Terra. La Terra all'inizio sembrava un inferno di lava fusa. I primi continenti si stavano ancora formando. Le terre erano dominate dai vulcani. Un luogo ostile e inanimato. Ma nel profondo degli oceani era iniziata la vita. Ma nel profondo degli oceani era iniziata. La Terra all'inizio è stata un aperto.